Colore degli occhi Della maggior parte dei moscerini Della frutta è il rosso Un bel rosso brillante Che si vede anche a occhio nudo E lo chiamo Questo carattere, siccome è quello più comune Diffuso alla popolazione, lo chiamo wild type Quindi I moscerini che aveva Morgan sul laboratorio Avano praticamente quasi tutti gli occhi rossi Dopo una serie di Di esposizioni Ai raggi X Morgan riuscì ad ottenere Dei moscerini invece Che avevano degli occhi completamente bianchi Anche questi facilmente riconoscibili Quindi Iniziò a fare i suoi esperimenti Incrociando individui Con occhi rossi Con individui con occhi bianchi Il primo esperimento Che si presenta sempre in libri di testo È quello di far Dell'accoppiamento tra una femmina Con occhi rossi Con un maschio mutante ottenuto Con esposizione alle radiazioni Con occhi bianchi Quindi questo è quello che sta in tutti i libri di testo Possiamo simulare gli esperimenti di Morgan Con questo laboratorio virtuale Sull'edrosofia Il flylamba E l'indirizzo lo trovate Nella pagina Nella pagina del video Qui posso scegliere Un'infinità di caratteri Quindi Posso scegliere Il tipo di antenne Colore degli occhi Forma degli occhi Grandezza delle ali Forma delle ali Eccetera eccetera Colore del corpo Ehm Per ognuno di questi caratteri Si sono i diversi mutanti Noi concentriamoci soltanto Su quelli Utilizzati da Morgan Anche perché Il colore degli occhi Non dipende da un solo gene Quindi potrebbe Potrebbe darci Generare confusione Andare a prendere uno di questi altri Quindi Abbiamo il nostro wild type Gli occhi rossi brillanti E abbiamo il nostro mutante Dorato da Morgan Occhi bianchi Posso scegliere Il primo incrocio quindi Che fece Morgan Fu fra femmina Occhi rossi E scegliamola Per l'accoppiamento E poi Trova questo maschio mutante Generato dalle radiazioni Con occhi bianchi Quindi noi concentriamoci Soltanto sul colore degli occhi Ignoriamo gli altri caratteri E scegliamo Occhi bianchi Abbiamo le nostre parentali Ah Questo è un simbolismo Abbastanza comune Il wild type Spesso Lo potete trovare Indicato con la lettera Più Soprattutto quando rappresenta Un gene pienamente funzionale Impressionante Mentre questa W Ci indica Il occhio bianco White Accoppiamo le mosche E otteniamo La nostra F1 La nostra prima generazione La nostra prima generazione Abbiamo 518 femmine E 499 maschi Quindi più o meno Abbiamo detto attorno al 50% I maschi hanno ricevuto L'Y Dal padre Le femmine hanno ricevuto Invece L'X Dal padre E Fino a qui Niente di strano Entrambe hanno Sono wild type Per vedere c'è la lettera Più E hanno gli occhi rossi Quindi il rosso È dominante su bianco Perfetto Continuiamo con gli esperimenti Con lo schema di Mendele Quindi accoppiamo Gli individui della F1 Questi due Selezioniamo Di accoppiamento E otteniamo Questo schema Che Se noi non consideriamo Il sesso Delle mosche Dei moscerini Non Non ha niente di particolare Ignoriamo Il sesso Dei moscerini E vediamo che abbiamo Wild type 752 individui Quindi circa Il 75% E il fenotipo Bianco Occhi bianchi 240 individui Quindi circa Il 25% Quindi proprio Un incrocio mendeliano Perfetto Un rapporto 3 a 1 Fra dominante Il rosso E recessivo Il bianco Ma se noi però Andiamo a vedere Il sesso Di questi moscerini Vediamo che Le femmine Sono tutte Esclusivamente Occhi rossi I maschi Invece Gli unici moscerini Con gli occhi bianchi Sono tutti Maschi Quindi i maschi Sono metà Occhi rossi E metà Occhi bianchi Quindi Questo Questo incrocio Ci fa capire Che Il sesso Determina La distribuzione Del gene E degli allei Che cos'hanno Di diversi Due sessi Fra le altre cose Al punto di vista Proprio Diciamo All'interno Della cellula All'interno Del nucleo cellulare Hanno diversi I cromosomi Le femmine Hanno un XX E i maschi E i maschi Hanno un X E Y Possiamo spiegarlo Questo In maniera Abbastanza semplice Seguendo sempre Lo schema Mendeliano Sì Possiamo farlo Ammettendo Ad esempio Che il gene Per il colore Degli occhi Occhio rosso Occhio bianco Sia soltanto Sul cromosoma X Vediamo Come Quindi La nostra ipotesi Di partenza È che i due Leli Sono sui cromosomi Sessuali Ma possono essere Portati soltanto Dal cromosoma X Quindi Una femmina Ha due Una coppia Delle Di proide E il maschio Ce n'ha soltanto uno Perché sul cromosoma Y Non ce l'ha Questa è la nostra ipotesi Di partenza Vediamo Se riusciamo a spiegarlo F1 Sono tutti rossi Perché? Perché Il nostro maschio Visto che sull'Y Non c'è Nessun Nessun allele Portava soltanto Un allele Precisamente Quello dell'occhio bianco Quindi quello recessivo Mentre la femmina Visto che era Una linea pura E non Non un eterozigote Portava Due alleli Tutte e due Per il gene dominante Quindi Il maschio Comunque Vada Riceve sempre Dalla femmina Un XR Grande Quindi riceve sempre L'allele dominante Stesso discorso Per le femmine Perché anche se le femmine Ricevono XR piccolo Dal maschio Comunque Dalla madre Ricevono sempre XR grande Quindi abbiamo I nostri maschi Che sono XR grande Y Tutti Le nostri femmine Che sono tutte Eterozigote XR grande XR piccolo XR grande XR piccolo Per cui Quando faccio Accoppiare adesso Questa femmina Della F1 Con questo maschio Della F1 Che cosa ottengo? Ottengo Che il mio maschio Adesso Mi porta XR grande Quello ricevuto Dalla madre Mentre la femmina Un XR grande Ricevuto dalla madre E un XR piccolo Invece ricevuto dal padre Per cui In questa colonna Tutti gli individui Di questa colonna Ricevono un XR grande Per cui Sia che siano maschi Sia che siano femmine Hanno occhi rossi Quelli invece Di questa colonna Se sono femmine Ricevono L'XR piccolo Dalla madre Ma ricevono comunque L'XR grande Dal padre Quindi sono Occhi rossi Eterozigote I maschi invece Possono ricevere La X Soltanto dalla madre Perché dal padre Ricevono l'Y E devono ricevere Per forza XR piccolo Quindi questo incrocio Mi spiega già Mi fa Mi verifica La mia ipotesi Che effettivamente I geni Per il colore Dell'occhio rosso Per il colore Dell'occhio bianco Siano soltanto Sul cromosoma X E che I maschi Portino soltanto Una copia del gene Perché sull'Y Non portano geni Completamente diversi Mentre le femmine Portano due copie Del gene Che possono essere Quindi le femmine Possono essere O omozigote R grande O omozigote R piccole Oppure eterozigote I maschi invece Possono essere soltanto XR grande Y O XR piccole Y Non esistono ovviamente Maschi Eterozigote Perché ci hanno Una sola copia Ci basta questo esperimento O no Facciamo un esperimento Inverso Facciamo un esperimento Adesso Con un maschio Dagli occhi rossi E lo incrociamo Con una femmina Dagli occhi bianchi E vediamo Quello che succede Ritorniamo al nostro laboratorio Virtuale Prendiamo colore degli occhi Prendiamo una femmina E la facciamo con gli occhi bianchi E la selezioniamo per l'accoppiamento E la facciamo accoppiare adesso Con un maschio Per il colore degli occhi Wild type Occhi rossi E lo selezioniamo per l'accoppiamento Che cosa otteniamo? Otteniamo che La nostra progenie È fatta esclusivamente Allora È fatta Prima di tutto Guardiamo soltanto il colore degli occhi Quindi analizziamola Senza considerare il sesso 50% sono occhi rossi 50% sono occhi bianchi Ma Questo ci dice poco e niente Effettivamente Ma se noi Consideriamo il sesso Abbiamo risultato ancora più gradante Del precedente Perché Quelli con gli occhi rossi Sono soltanto femmine E quelli con gli occhi bianchi Sono soltanto maschi Quindi si è invertito Il fenotipo Dei maschi e delle femmine Quindi noi siamo partiti Da una femmina con gli occhi bianchi E otteniamo solo maschi con gli occhi bianchi Siamo partiti da un maschio Con gli occhi rossi E otteniamo soltanto femmine Dagli occhi rossi Questo va effettivamente Apparentemente Contro ogni schema Mendeliano In realtà Non è così Andiamo a verificare Quindi abbiamo I nostri generitori di partenza Erano un maschio occhi rossi Quindi per la nostra ipotesi XR grande Y E una femmina con gli occhi bianchi Quindi per la nostra ipotesi XR piccolo XR piccolo Che cosa abbiamo ottenuto Nella F1 Abbiamo ottenuto Abbiamo detto Femmine tutte con occhi rossi E maschi tutti con occhi bianchi È spiegabile? Sì Perché il maschio Il suo cromosoma X Lo dà solo alle femmine Quindi Tutte le femmine Che hanno ricevuto Il cromosoma X Del maschio Ci hanno un R grande Quindi avranno gli occhi rossi Mentre Il maschio Dà Ai Suoi discendenti Maschi Soltanto il cromosoma Y Quindi non gli può dare Questo qui XR grande Chi è che gli dà L'allele Per il collo degli occhi Soltanto la madre E la madre C'ha soltanto XR piccolo Quindi i miei maschi Verranno tutti Con gli occhi bianchi Quindi questo incrocio Mi conferma L'esperimento Di Mendel Di Morgan Cioè l'ipotesi di Morgan Che L'allele Per il collo degli occhi Rosso e bianco Stia su cromosoma X E che le femmine Ne abbiano due copie E il maschio Ne abbia una sola Facciamo anche La F2 Giusto per vedere Se possiamo avere Dei risultati Riproducibili Quindi incrociamo Gli individui Ottenuti con la F1 E vediamo Che risultato Abbiamo con la F2 Nella F2 Abbiamo risultato Ancora più Lontano Diciamo Dalle parametri Mendeliani Che però Conferma La nostra ipotesi Quindi abbiamo Un quarto di femmine Metà femmine O no Metà femmine Con gli occhi rossi Metà femmine Con gli occhi bianchi Metà maschi Con gli occhi rossi E metà maschi Con gli occhi bianchi Possiamo spiegarlo questo? Sì Basta tornare Alla diapositiva precedente E abbiamo la spiegazione Allora Prendiamo questo individuo Della F1 È un maschio Xr piccolo Y E lo facciamo Incrociare Con una femmina Della F1 Che è un'etrezzigote Xr grande Xr piccolo Quindi abbiamo Quattro gameti diversi Per il maschio Xr piccolo E Y Per la femmina Xr grande Xr piccolo Per cui In questa casella Questo maschio Ha ricevuto Xr grande Dalla madre E quindi Gli occhi rossi Quindi Un 25% Di individui Con occhi rossi In quest'altra casella Invece Il maschio Ha ricevuto Xr piccolo Dalla madre E quindi Gli occhi bianchi Poi In questa casella La femmina Ha ricevuto Xr grande Dalla madre E Xr piccolo Dal padre Quindi Agli occhi rossi In questa casella Questa femmina Invece Ha ricevuto Xr piccolo Dal padre Ma anche Xr piccolo Dalla madre Quindi Agli occhi bianchi Quindi Anche L'analisi Della F2 Ci conferma L'ipotesi Di partenza Quindi 50% Di femmine Con occhi rossi E scusate Di maschi Con occhi rossi 50% Con occhi bianchi 50% Di femmine Con occhi rossi 50% Con occhi bianchi Quindi Un rapporto 1-1-1 Tra maschi e femmine Tra occhi rossi Dopo questa E tutta un'altra serie Di esperimenti Quindi L'unica spiegazione Possibile È questa Il gene E gli alleli Per il colore Degli occhi Rosso-bianco Sono situati Sui cromosomi sessuali Precisamente Soltanto Sul cromosome X Le femmine Hanno due cromosome X Si chiamano XX Si dice Si indica un XX O si chiamano Homo gametiche Perché hanno Diciamo Fanno solo un tipo Di gameti Quelli con l'X E ognuno di questi Porta un allele Per il colore degli occhi Quindi possono essere Homo zigoti R grande R grande Etero zigoti R grande R piccolo Homo zigoti R piccolo R piccolo Abbiamo visto tutti e tre i casi I maschi Hanno un solo cromosome X E Hanno un cromosome Y Sono quindi Etero gametici Cioè danno due tipi di gameti Uno che Dona l'X E uno che dona l'Y Per cui portano Un solo allele Per il colore degli occhi Quindi non potranno mai essere Etero zigoti I maschi Possono portare OX R grande OX R piccolo Sull'unico cromosoma X Quindi Per la prima volta Morgan aveva dimostrato Che i geni sono Entità fisiche Situate proprio Sui cromosomi Come aveva teorizzato Mendel Anche se Mendel Non sapeva associarli A cromosomi Neanche conosceva Cosa fossero i cromosomi E si trovano In punti precisi Dei cromosomi Che chiamiamo Loci Anche se la dimostrazione Riguardava solo i cromosomi Sessuali Poi fecero un'infinità Di esperimenti E lo dimostrano Su tutti i cromosomi Comunque Anche se la dimostrazione Riguardava solo i cromosomi Sessuali Non c'era motivo Per pensare Che i geni Fossero presenti Solo sui cromosomi Sessuali E non anche sugli altri I cromosomi Quella è la loro funzione Negli anni successivi Comunque Si susseguirono Altri esperimenti Ad opera di Morgan E molti altri scienziati Sia sugli animali Che sulle piante E tutti portarono A questa conclusione I geni di Mendel Occupano Specifici Specifici Loci Sui cromosomi I cromosomi Omologhi Sono simili E portano Gli stessi Geni Non alleli Nelle posizioni Corrispondenti Ma Possono portare Due alleli diversi Soltanto i cromosomi X e Y Cioè Soltanto quelli sessuali Invece portano Geni diversi Quindi Il colore degli occhi Sta soltanto Sul cromosoma X L'Y non ce l'ha E quindi i maschi Portano soltanto Una copia Di ogni genere Quindi un solo alleli Di ogni genere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti